Nato in seguito alle dimostrazioni che si sono organizzate in modo spontaneo da parte degli ambientalisti per difendere gli alberi di Viale Cheiroli, in procinto di essere battuti per poi lasciare il posto al nuovo sottopasso, il comitato dei residenti dello stesso Viale si è presentato oggi alla città. Lo ha fatto nella chiesa del suffragio tramite il portavoce Alberto Torta e altri due rappresentanti, Francesca Oguccioni e Sonia Caselli. Rappresentando al momento 37 residenti, il comitato intende farsi interlocutore nei confronti dell'amministrazione comunale, non solo per ottenere un progetto del sottopasso meno impattante, ma anche per risolvere tutta una serie di problemi che in questo momento degradano quello che potenzialmente è uno dei più bei viali di Fano e rappresenta un collegamento importante tra centro storico e mare. Chiediamo di ripensare il progetto, rivederlo in maniera più ottimale dal punto di vista architettonico, perché ci sembrano 136 metri molti e snaturano completamente la struttura architettonica del Viale Cheiroli, che ricordiamoci è un viale storico, con macchine sempre più grosse, biciclette elettriche che ormai sfrecciano anche sui viali pedonali, richiedono un ripensamento complessivo della viabilità del Viale Cheiroli, che ricordiamoci è strategico per accedere al Lido. E voi come residenti soffrite anche molto il problema dei parcheggi in occasione degli eventi che si svolgono al Lido? Certo, questo è un grosso problema, perché quando si fanno manifestazioni bellissime, d'accordo, facciamole, ma quando richiamano migliaia di persone al Lido, tutto ciò che sta intorno nella zona Lido è occupato da macchine. Molto spesso i residenti sono costretti ad andare a parcheggiare in Viale della Giustizia, quando forse è un parcheggio più vicino potrebbe essere quello della Liscia. Speriamo che l'amministrazione e speriamo anche che le altre forze politiche recepiscano alcune di queste nostre preoccupazioni e le facciano proprie. È uno dei viali più belli di Fano. Non capisco perché venga lasciato in queste condizioni di degrado.